Migliaia di persone, secondo gli organizzatori circa 30.000, si sono messe in marcia sabato mattina alla volta del santuario della Madonna di Pompei. Il tradizionale pellegrinaggio è partito dalla chiesa del Carmine in piazza Mercato dopo la tradizionale cerimonia religiosa. Ci sono voluti otto ore per raggiungere il santuario, un percorso lungo 30 km, il tutto accompagnato dallo slogan Maria maestra di interiorità, o ancora l'unica cosa che ci accompagna, è la fede verso la Madonna di Pompei che rappresenta la Madre di Dio. Vogliamo metterci al servizio di una donna che, scegliendo con la sua vita di rispondere in modo docile e convinto alla chiamata del Signore, è per noi esempio di fedeltà a Dio e all'uomo, ha detto Vito Gurrado, presidente dell'azione cattolica nella diocese di Napoli, dopo l'arrivo dei pellegrini nel santuario messa solenne del cardinale Crescenza Seca.